Ciao amici, oggi vi parlo di Pienissimo Pro, l'agenda digitale che riempie il tuo locale. Ma prima fammi presentare, io mi chiamo Giuliano Lanzetti, sono il titolare del Bounty di Rimini e mi è sempre stato a cuore il marketing, mi è sempre stato a cuore come capire e come mai alcuni locali avevano sempre la fila fuori e altri invece perennemente sono locali sfortunati, se così vogliamo dire. E questa è stata la mia vita, quindi io sono nato all'interno dei pubblici esercizi, i miei genitori avevano una discoteca e io ero un bambino di 5 anni che voleva dormire nel guardaroba dell'attività dei miei genitori, finché non ho avuto l'opportunità nel 2003 di gestire il mio locale che è il Bounty di Rimini. Il Bounty di Rimini che molti di voi conoscerete, in qualche modo oggi è preso ad esempio a livello nazionale come un locale di successo, come un locale che è in grado di essere un'attrattiva. Gente fa centinaia di chilometri per venire da noi o comunque è un locale che se passi da Rimini non puoi non fermarti. In realtà dietro a tutto questo c'è un segreto e c'è un segreto anche dietro alle migliaia di ristoratori e colleghi che hanno già iniziato a utilizzare il mio sistema che ho inventato ed è il metodo Pienissimo, nell'applicazione di Pienissimo Pro. Quindi il metodo Pienissimo viene spiegato ai nostri corsi di formazione, per chi vuole chiaramente un locale performante sempre pieno anche durante la settimana, ma l'agenda digitale, quindi lo strumento che in qualche modo è stato dirompente perché i successi che derivano da chi utilizza Pienissimo Pro sono veramente tangibili e hanno un valore mille volte quello che magari potrebbe essere il costo dell'abbonamento fisso. Noi non siamo la multinazionale che vi vuole rubare i contatti per fare il loro marketing. Oggi abbiamo la multinazionale delle prenotazioni, abbiamo la multinazionale del delivery, ma il loro obiettivo in qualche modo è quello di carpirvi il cliente per poi fare delle offerte che poi si sa un po' come va a finire e ci mettono dentro questa pentola a pressione dove c'è la guerra del prezzo e un cliente che magari inizialmente era il mio cliente diventa cliente loro e magari risponde al loro marketing e magari risponde alle offerte di un mio concorrente che è disposto a sbragare un po' più col prezzo, magari fa il 20%, poi quell'altro fa il 30%, poi quest'altro fa e capite bene che questo non è marketing ma è un gioco, suicida a ribasso. Quello che noi consigliamo sempre è prendete con le pinze questi strumenti perché è un attimo che in qualche modo loro poi prendano voi. Io ripeto e dico sempre il locale di chi lo riempie. Se il locale non siete voi a riempirlo con le vostre mani significa che le chiavi appartengono a qualcun altro perché un domani vi può decidere di non mettervi più magari in prima pagina, di nascondervi e i vostri ordini non arriveranno. Può decidere di aumentare, raddoppiare il canone, magari la percentuale fissa perché vi chiedono anche percentuali fisse e voi in qualche modo dovete sottostare altrimenti il vostro locale sarebbe vuoto e comandato da altri. Invece no, io nel 2016 ho avuto questa grandissima idea di inventarmi quella che è l'agenda digitale che riempie il tuo locale, ma agenda è molto riduttivo come termine perché è vero, io nel 2016 ho capito che il contatto era un valore immenso, era in qualche modo lo scrigno, il tesoro più importante che un ristoratore aveva a disposizione. Generalmente oggi quel contatto viene dimenticato in vecchie agende cartacee in cantina oppure addirittura vengono strappate le pagine per non far sapere quanta gente magari c'era l'anno scorso in quella giornata. No, l'idea è totalmente diversa anche perché quel contatto dentro l'agenda non ha in qualche modo nessun valore non posso ricontattare la persona, non ho l'autorizzazione alla privacy. Allora io mi avvalevo già di qualche strumento, quindi avevo uno strumento per inviare le mail, uno strumento per inviare gli sms e ancora a quei tempi whatsapp praticamente non c'era, ma oggi abbiamo anche il canale di whatsapp col quale comunicare col cliente, fare marketing, un marketing a risposta diretta, un marketing immediato su contatti che aumentano e crescono di giorno in giorno in modo automatico. Voi non vi accorgerete e andrete a vedere a fine del mese all'interno del nostro back office e dite cavolo, ho mille clienti archiviati, catalogati, segmentati in base ai loro usi e comunque a ciò che gli piace, ciò che hanno usufruito, se magari di un servizio di delivery, un servizio di asporto, oppure sono appassionati e vengono a vedere la partita di calcio, piuttosto che sono una famiglia, piuttosto che tutto quello che voi volete profilare potrete farlo e lo fate in modo automatico, lo fate con un sistema molto più rapido, molto più veloce, molto più sicuro che è Pienissimo Pro. Adesso se la regia mi aiuta, mi mette a video quello che sono le nostre funzioni di base, quindi noi qui al telefono avrete il vostro iPad con la nostra piattaforma installata e direttamente anziché scrivere sulla carta potrete scrivere, come ormai si inserisce un contatto nel vostro telefono in modo immediato e rapido, andrete a inserire la prenotazione. Da quel momento il cliente è archiviato e partirà una comunicazione automatica nei suoi confronti dove lì anche andremo a chiedere l'autorizzazione all'utilizzo dei suoi dati, quindi sarete a posto con la privacy e da lì avremo una comunicazione che seguirà il cliente nella sua esperienza prima di venire da noi, durante, quando il cliente è con noi in sala e dopo che il cliente se ne andrà. Pensate che cosa bella è ricevere un alert o comunque una notifica che ti dice guarda tra tre ore ti aspettiamo, il tuo tavolo è qui e quindi magari guardati questo video e scopri cosa ti aspetta. Io ho girato mezzo mondo, non mi è mai capitato di trovare un'accortezza così facile anche da fare, ma che fa tutta una grande differenza. Oggi come oggi è l'intangibile, sono le piccole cose, sono i piccoli accorgimenti verso il cliente che ci fanno fare una grande differenza. Quindi a questo punto il cliente entra in contatto con noi e non lo lasceremo più, non lo lasceremo più. Poi abbiamo anche chiaramente la formazione collegata alla nostra piattaforma e incluso con Pienissima Pro abbiamo addirittura un corso di una giornata intera riservato solo ai possessori della nostra piattaforma. All'ultimo evento eravamo più di 800 persone a Rimini e lì di fatto c'è una cosa magica, c'è che si parla con i nostri colleghi, c'è che si guarda dei che stadi, quindi di come quella persona ha fatto un'offerta e risultati che ha avuto e quindi io quelle cose le posso copiare pari pari e farle all'interno del mio locale. Questo è il segreto di Pienissimo. Ristoratore come me, che sono un vostro collega, che condivide le azioni di successo con altri ristoratori. Questo è qualcosa di magico ed è il segreto e l'unica cosa che ci differenzia dalle mille e più software house e mille e più sistemi magari di prenotazione che già esistevano o già in qualche modo esistono. No, noi siamo specifici per la ristorazione. Siamo nati proprio perché? Perché la mia invenzione è stata la necessità di riempire un locale grande come il mio, come il bounty, riusciamo a fare 1500-1600 coperti in estate, ma senza uno strumento di questo tipo non riuscirei mai a fare dei numeri di quel tipo. Quindi andiamo a vedere quelle che sono le specifiche, dove siamo i leader. Delivery. Cosa accade? Che un cliente può fare un'ordinazione da casa sua, in quel momento c'è uno scambio, in quel momento c'è il contatto che da lui arriva a me, c'è un'autorizzazione della privacy e noi prendiamo e archiviamo immediatamente quel contatto. Oppure il menu digitale. Usciamo da una pandemia mondiale dove ormai è stato sdoganato questa necessità di scansionare, scansionare un QR code dove ci sarà il vostro menu e chiaramente il menu digitale di pienissimo è un qualcosa di estremamente sofisticato, ma non dal punto di vista di lettura del cliente, ma di upsell e di marketing che tu potrai fare all'interno. Perché tramite delle domande, tramite l'evidenziare alcune portate piuttosto che altre, solo quello vi farà guadagnare. Perché? Perché ci sono un sacco di trucchi e di segreti all'interno che faranno la differenza piuttosto che dare un vecchio foglio a quattro, oppure quei vecchi menu che ormai sono anche poco igienici, oppure un menu digitale ma mal fatto e tirato un po' via. Queste sono tutte funzioni all'interno che vi troverete già. Quindi menu digitale importantissimo perché anche da qui può entrarmi il contatto. Posso scegliere se far inserire obbligatoriamente magari la sua mail per sfogliare il menu, posso anche farglielo guardare in modo aperto, però capite che se anche durante quando è stato obbligatorio per la pandemia avere la tracciabilità di tutti i commensali, in questo modo non ho necessità di dover schedare le persone, perché so che quel giorno quelle persone erano sedute nella mia attività e se mai un domani dovessi ricontattarle a norma di legge, perché la legge che ce lo chiede siamo in grado di reperire quel contatto. E poi abbiamo il wifi, quindi non solo captiamo il contatto dal delivery, captiamo il contatto dal menu, ma chi si collega all'interno del wifi del vostro ristorante in automatico viene preso e inserito nel vostro database. Un database è sicuro, un database che non rischia l'hard disk che si rompe piuttosto che il salvataggio sbagliato, la chiavetta e tutto quello che comporta, invece la nostra è un'archiviazione in cloud, anche qui avremo contatti a norma di privacy. E un'altra cosa è la vostra agenda, come dicevo, di prenotazione, che può essere ancora telefonica, quindi io rispondo, inserisco, come state sicuramente facendo oggi, oppure io ricevo un ordine web. Cioè qualcuno entra nella mia app o magari nel mio sito internet o comunque in qualsiasi posto dove voi volete pubblicare un short link, quindi è una cosa ormai comune anche da inserire in un sms, dentro un whatsapp, a quel link ci sarà un modulo di prenotazione. Io vi dico, noi ristoranti siamo rimasti indietro, perché ormai ovunque si prenota qualsiasi cosa online. Un volo lo prenota online, un albergo lo prenota online, un viaggio in treno, in aereo, qualsiasi cosa viene prenotata online. E vi assicuro che nei prossimi anni ci ricorderemo come un ricordo lontano quello di prenotare telefonicamente, perché la telefonata è scomodissima. Io al Bounty la scorsa stagione ho trasportato l'80% delle prenotazioni sull'online, quindi in un semplice link, magari dal vostro sito, magari dove vi pare, come vi ho detto, ma è tutto molto più veloce, tutto molto più semplice. Anche voi stessi non dovete più ricevere quella mole di telefonate che a volte si risolve in no, mi dispiace, siamo al completo, no, mi dispiace, siamo al completo. Quello è tempo buttato via, delusione per il vostro cliente che magari cercava per due, tre ore o più di prenotare e poi non ha potuto e avete anche buttato via il contatto. Tutto questo non accade, non accadrebbe con Pienissimo Pro. perché avreste comunque un link, vi si attiva un pallino e abbiamo anche addirittura l'applicazione da vostro smartphone, che sia Android, che sia Apple. Siete magari in giro, siete a fare, non lo so, dal parrucchiero a fare la spesa e vi arrivano direttamente le prenotazioni. Aprite l'applicazione e decidete se accettare o rifiutare quella prenotazione, il cliente sarà informato in tempo reale velocemente e quel contatto entrerà nel mio archivio. Questo è qualcosa veramente di spettacolare. Quindi la nostra agenda, chiaramente, oltre a questo, è comodissima perché non avere più la scritta, i cancellotti, non si sa bene chi l'aveva scritto, non si sa bene che cosa è successo, abbiamo tutta la nostra agenda su un iPad, tutto ordinato, posso andare a cercare con la ricerca un cognome e mi comparirà subito. Veramente tanta roba. Poi abbiamo la possibilità di scalare le classifiche. Quindi scalare le classifiche significa che ogni cliente che varca la soglia del mio locale io chiederò una recensione. Scegliete voi verso quale portale. Potete mandarli verso TripAdvisor, verso Google, verso Facebook o qualsiasi sia il vostro portale di riferimento e lì è solo dove voi concentrerete tutta questa forza vedrete una cosa straordinaria. Ciò che capita alle centinaia e ormai sono più di mille gli utilizzatori di Pienissimo Pro in Italia è cavolo, io ero alla posizione 1200 e mi trovo nelle prime dieci. Oppure sono il primo, mi viene in mente veramente, non so, Antonio Posati del Totos Vitero primo su TripAdvisor nella sua città oppure alla Spezia abbiamo primi su TripAdvisor Ristorante La Pianta oppure, non so, a Rimini stesso Luca Bernabei del GB Restaurant primo su TripAdvisor perché? Perché noi la recensione la chiediamo. Ecco la grande differenza, ecco ciò che tutti i vostri colleghi non stanno facendo e capite bene che questo vi dà una potenza enorme perché? Perché tutte le recensioni che andate a chiedere magari su dieci anche se fossero solo due risposte ma quelle due sommate alla fine della settimana alla fine del mese faranno sì che il vostro locale il mio locale ha più di 8300 recensioni all'attivo quando a Rimini il monumento più importante noi abbiamo l'Arco d'Augusto e il Ponte di Tiberio non ne hanno neanche mille quindi capite bene che potenza di fuoco vi potrà dare solo il fatto di chiedere chiedere in modo automatico di essere recensiti sceglierete voi dove poi abbiamo Filafast altro strumento importantissimo Filafast vi auguro a voi di avere spesso già la fila all'interno del vostro locale se ancora non avete la fila ce l'avrete perché poi insegniamo come mettere a frutto tutti quei contatti e vi assicuro che è qualcosa di molto più semplice di quello che state pensando fila fuori cosa accade? Walk in quindi persone che sono là e si presentano davanti al vostro locale in quel momento siete pieni quindi dovete gestire una coda e tramite lo stesso iPad sempre in modo gratuito sempre con un servizio già incluso avete la possibilità di prendere i dati della persona e avvisarlo magari con un messaggino con un sms con un whatsapp quando il tavolo si libera questo è fantastico perché il cliente in quel momento sarà libero magari di andarsi a fare una passeggiata e comunque verrà avvisato tramite il telefono quando potrà tornare o addirittura potrebbe magari essere fatto accomodare al vostro banco del bar o in una vostra sala per aperitivi dove quell'aperitivo già vi potrebbe aumentare il fatturato del 20-30% rispetto a quello che invece sarebbe stata una spesa senza un aperitivo quindi guadagnate nei confronti del cliente che si accorge di avere un bel servizio guadagnate nei confronti vostri perché avete un contatto che non avreste mai raccolto guadagnate perché vedono che comunque che trattate anche con a norma di privacy tutto l'iter e magari guadagnate perché gli state vendendo qualcosa in quello spazio di tempo che nessuno ha messo a reddito perché di solito c'è gente che si annoia in fila e questo non si può fare non posso avere gente annoiata a fare una fila quando invece posso mettere a reddito quella fila come lo faccio con fila fast e poi posso creare sondaggi i sondaggi sono qualcosa di straordinario perché perché come magari invito le persone a recensire il mio locale posso e devo invitarle magari a compilare un sondaggio io ricevo forse un centinaio 150 sondaggi ogni giorno dalla mia attività e vi assicuro che là dentro trovo un pozzo di informazioni per migliorare il mio servizio per andare magari anche a trovare delle strategie nuove sono i clienti stessi stessi che vi daranno un suggerimento su cosa gli piacerebbe trovare da voi su magari c'è stato un problema con quel cameriere e vi dicono anche con quale cameriere oppure voi comunque saprete a che tavolo era seduto quindi se lamenteranno qualcosa sapete in che rango era che giorno era chi c'era in cucina questo è veramente chiaramente poi un sondaggio sempre fatto con metodo pienissimo e vuol dire di grande utilità per il mondo della ristorazione non è un sondaggio di quelli così fatti a caso quindi abbiamo detto scalare le classifiche fila fast creare sondaggi il nostro marketing oggi come oggi devi andare magari a prenderti una piattaforma di invio sms una piattaforma di invio di newsletter di mail quindi sei schiavo di più sistemi no noi abbiamo internalizzato tutto avrete tutto in un unico strumento con i vostri contatti già pronti già profilati per avere in qualche modo la possibilità di ricontattarli come vi ho detto prima è la cosa più preziosa che abbiamo il contatto del nostro cliente e si salveranno solo le aziende che impareranno ad usare al meglio quei contatti come comunico con loro quali offerte faccio loro faccio delle offerte che li infastidiscono o faccio delle offerte che non vedevano l'ora di ricevere questa è la grande differenza e questo è quello che fanno i nostri studenti in pienissimo quindi marketing profilato scelgo quale canale magari posso mettere fuori delle promo con un QR code dentro facebook e quel QR code ha già il pixel di monitoraggio questo parlo un linguaggio magari per quelli un po' più avanzati ma poi non è così difficile ormai usare questi strumenti sono alla portata di tutti o comunque imparerai ad usarli tramite la nostra formazione e a quel punto io posso raccogliere centinaia di clienti quindi di contatti ogni giorno perché ho mandato una promo dove? su facebook su un social network oppure magari faccio un video su youtube oppure magari uso e mando un whatsapp a tutti i miei clienti e per scaricare quella promo dove arriveranno e gli arriverà un QR code all'interno del loro magari whatsapp già scansionabile sempre con il nostro ipad che terremo al ristorante e quello ha già raccolto magari 100 200 300 contatti in una giornata perché sta girando la nostra promozione e le persone sono interessate sono già profilate vogliono venire da noi sono già in qualche modo state taggate come vi ho già detto tutto chiaramente a norma di privacy oggi è importantissimo fare in modo che questi contatti siano a norma e siano utilizzabili e soprattutto fare in modo anche che il cliente che non vuole essere infastidito o comunque non vuole continuare a ricevere le nostre informative possa disiscriversi quindi è un sistema totalmente a norma di privacy e cupone promozioni vi ho già accennato qualcosa vuol dire poter creare delle promozioni creare dei coupon creare anche delle promozioni addirittura che si possano tramandare da cliente a cliente quindi su questo non voglio anticipare nulla perché a breve terremo della formazione proprio apposta ma è qualcosa di straordinario un cliente che arriva non dovete stampare nulla arriva con un QR code voi lo scansionate annullate quella promo quindi non potrà più essere riutilizzato da altre persone e avrete finalmente un marketing misurabile quindi come vedete in questa in questa slide misurabile cioè statistiche sapere ho speso 10 euro quei 10 euro sono tornati sotto questa forma questo è quello che il metodo di pienissimo insegna questo è quello che in qualche modo noi ci teniamo a trasmettere a chi segue la nostra formazione a chi diventa un nostro fan perché noi non abbiamo io non ho clienti io ho gente che impazzisce per il nostro metodo ho gente che impazzisce perché i risultati sono straordinari i fatturati raddoppiano le persone arrivano e arrivano magari anche in mezzo alla settimana questo è qualcosa di straordinario che trasforma un cliente normale in un cliente super entusiasta del vostro prodotto e poi chiaramente noi abbiamo la nostra assistenza che vi guiderà in un'attivazione quindi non verrete lasciati da soli con una nuova piattaforma che sicuramente all'inizio dovrà essere settata cosa vuol dire mettere il vostro logo i vostri parametri aziendali le vostre privacy all'interno del sistema automatico ma una volta finito questo settaggio tutto funzionerà automaticamente avrete sempre la nostra assistenza a disposizione ma non avrete più tanti movimenti da fare una volta che questo sistema è impostato la comunicazione parte in automatico e l'offerta che magari volete fare alle persone che non hanno trovato posto il sabato sera per spingere magari in un infrasettimanale verrà fatto tutto automaticamente quindi oggi sei davanti a una scelta puoi scegliere se fare un tuffo nel futuro e portare il tuo locale a un livello superiore e dotarlo di uno strumento fantastico che i tuoi clienti noteranno e non solo noteranno loro ma noteranno anche nella tua banca perché il tuo conto corrente inizierà ad alzarsi perché chi fa bene marketing chi fa tornare il cliente chi in qualche modo fa delle promozioni nel modo giusto non può poi non avere un ritorno questo è garantito quindi sei davanti a una scelta o rimani a fare ciò che avevi fatto e pensi di risparmiare una cifra che è irrisoria perché magari con la prima festa che organizzi chiamando tutti i tuoi contatti ti sei già ripagato totalmente l'intero investimento oppure ti butti e fai quello che è il futuro della ristorazione fai come dovrebbe fare un imprenditore quindi cavalca le nuove strategie cavalca il marketing vedi tu rimanere con un'agenda vecchia lì cartacea l'hai già fatto l'hai fatto per tanti anni e può avere dato risultati ma sappiamo bene anche la difficoltà nel momento in cui voglio riutilizzare quei contatti in qualche modo vanno trascritti nel trascrivere poi la mail non l'ho chiesta e quindi ho solo il numero di telefono però non potrei usarlo e mando un messaggio il cliente in qualche modo viene disturbato no questo non esiste con pienissimo pro quindi sei davanti a una scelta o rimani dove sei e il risultato è già chiaro oppure a questo punto puoi scegliere e approfittare della nostra migliore offerta e prendere pienissimo pro pienissimo pro che in qualche modo è stata la rivoluzione più importante a livello nazionale con risultati straordinari da parte di tutti i nostri studenti e da parte di chi è entrato in questo mondo vi lascerò delle testimonianze qui in questa pagina ci sarà anche il link per approfittare di un'offerta che vale per un periodo limitato quindi affrettati perché potrai comunque chiederci una demo totalmente gratuita ci collegheremo con te ti mostreremo con tutta calma questo totalmente gratuito come potrai giovare della nostra garanzia non darei mai una garanzia per un prodotto nel quale non credo invece tu riuscirai assolutamente a testare e decidere a quel punto se tenere la nostra piattaforma oppure dire no guarda mi sono sbagliato ma la garanzia è soddisfatti o rimborsati quindi sono certo che sarai entusiasta come i più di mille nostri studenti e fan di pienissimo però ti aspetto trova il bottone ciao